Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Video improvvisatissimo, sono truccata perché mi sono preparata per fare un video sul canale SMR, oggi viene Sara, ma vabbè, bando, non ci incastra niente con quello che volevo dire. Il video è improvvisato perché ieri ho postato un video sul canale Vlog dove faccio vedere il nostro pranzo all'aperto, il primo pranzo all'aperto della stagione che abbiamo fatto con mio marito. Abbiamo ancora il gazebo mezzo chiuso, però ho detto vabbè, dai, e per noi una tradizione è in primavera il pranzo con pecorino e fave. Quindi io ho condiviso fra l'altro uno short dove facevo vedere questo pranzo che per me era un, io almeno coscientemente per me stavo condividendo una cosa semplice, carina della nostra vita, una cosa che per me è una cosa bella, piacevole e quindi per me è stato un condividere con voi, con le persone, insomma, e ho ricevuto diversi commenti veramente fastidiosi. Allora, quando si entra in un percorso comunque di crescita, di attenzione, forse a volte ci si fanno anche troppe seghe mentali, il che è probabile. E quindi io subito mi sono messa a pensare, ho detto, vedi Monica, sono arrivati i messaggi negativi, perché te hai vibrato basso, oppure perché hai fatto questo video, ti volevi mettere in mostra, oppure volevi semplicemente condividere, oppure perché ti sono arrivati questi commenti, cosa devi imparare da questo, sono nella tua ombra. a un certo punto ho detto, fermati. Il casino è questo, è che quando si entra a fare appunto un percorso, poi finisce che persone con un lato mentale molto forte, come nel mio caso, intendo non che sono tanto intelligente, ma che ho la testa che è sempre lì a fare il lavoro io e consuma un sacco di energia inutilmente. Ecco, per le persone con la tendenza a fare tutto questo rimugineo mentale è pericoloso, perché fare un percorso di consapevolezza, di crescita, con un tipo di testa così, finisce appunto come si fa tantissime seghe mentali, butta via un sacco di energia e poi alla fine al noccio della questione non ci arriva. Quindi stamani, vabbè, ho detto, ok Monica, guardati un po' di Giorgia Sitta perché hai bisogno della tua guida. Io ho diverse guide spirituali, diciamo, e quando sento che perdo un po' il centro vado a pescare o da uno o dall'altra e mi serve anche a rimettere un po' in centro, un po' in focus quello che sto facendo e che sto pensando. Dopo questo video di Giorgia Sitta non è che sono arrivata a chissà quale consapevolezza, però mi ha aiutato magari a fare qualche riflessione in genere, però non mi metto qui a farvi tutta la pappardella, se no poi altro che seghe mentali ragazzi. Allora, però alla fine di tutto questo il dubbio rimane sempre. Quando succedono questi episodi, che faccio? Rispondo o non rispondo? Anche lì la personalità che si sente pungolata, punzecchiata, ovviamente viene subito da rispondere e trattare male la gente. Sempre la personalità però ti dice, no dai, fai la superiore, non rispondere, fai ignorali. Però sempre la personalità è che parla, non è la coscienza superiore o suprema che fa questi ragionamenti. In teoria bisognerebbe stare col fastidio, nel senso mi arriva il messaggio fastidioso, io prima di fare una qualsiasi azione mi metto lì e sto col fastidio e lo lascio lavorare questo fastidio, in modo che poi magari emerge quella parte della bimba ferita che è ancora lì attiva e presente. E se io rispondo subito non sto col fastidio, la bimba ferita ha una reazione, non ha modo di crescere, di fare uno step. Quindi che ho fatto stamattina? Ho risposto. Non ho risposto con quella rabbia che magari avrei potuto rispondere anni fa, però ero infastidita. Poi al di là del fatto quando uno comunque è stato lì con tutte queste cose, ne ha preso consapevolezza, è stato lì. Poi comunque uno discerne anche e dice ok, ma questa persona merita di essere ignorata o merita comunque una risposta data però non sull'onda della ferita ma sull'onda di uno che ci ha riflettuto? Ecco, ora io credo di essere stata abbastanza equilibrata nelle mie risposte. Però al di là di tutto sto pannegirico che spero di non risultare assurda e spero che mi capirete e se non mi capirete pazienza. D'altra parte io voglio provare comunque a portare qui sul canale quello che sono, quello che penso, quello il più possibile senza filtri. Quindi è chiaro che non potrò piacere a tutti e me ne dovrò fare una ragione. Mi sono persa. Ah ecco volevo dire però poi c'è anche una responsabilità sociale nel senso che se una cosa secondo me comunque non è giusto farla, non è giusto dirla, cioè perché non te lo devo dire? Cioè un conto è stare lì, prendere consapevolezza, prendere coscienza, però poi se ritengo che tu abbia pisciato fuori del vaso perché non te lo devo dire? Te lo posso dire anche per benino, no? E la cosa che mi ha colpito al di là della prima reazione immediata, quella appunto alla Monica che fai, come vibri, che poi anche questa cosa qui di parlarmi sempre come se parlassi con qualcun altro ragazzi, è un va bene, non va bene perché è come se ci fosse la Monica genitore che rimbrottola la Monica bambina e finché si va avanti così non se ne esce. Quindi dovrei cominciare a parlare in prima persona di quello che faccio o che ho fatto. Chiusa parentesi. Quello che ho notato è che quasi tutti i commenti erano sul, uno ma che pranzo triste, un altro ah pranzo sano coi bicchieri di plastica, ah questo non è un pranzo monospuntino, cioè quasi tutto, la maggior parte dei commenti commenti su questo tono qua, no? E ci sono rimasta male perché dico ma come, cioè io ti apro la mi casa, ti faccio vedere quel che mangio, sono contenta, condivido la mia gioia con te, ti do anche uno spunto e te mi vieni lì a massacrare. Perché? Per quale motivo? Che ti ho fatto? Cioè perché ti dà noia che io mangi così poco? Anche lì, ma che ne sai? Allora intanto piatti e bicchieri di plastica non sono di plastica ma sono di quelli compostabili. Se permetti io piatti della risciarginori fuori in giardino con il rischio di intrampolare e di romperli, non ce li porto soprattutto se sono da sola a organizzare le cose. Quando siamo in due magari, ma mio marito era impegnato a fare altre cose, magari gli passo la roba e la porta a lui, però ma che ti devo da spiegazione a te di come ma, cioè dei piatti e dei bicchieri? Che comunque c'era anche scritto nella descrizione perché poi la gente non c'ha voglia di leggere, quindi anche lì leggete, informatevi, cioè c'era scritto in descrizione. Piatti, bicchieri compostabili, quindi quelli vanno nel composto, non è che vado a sprecare chissà cosa usando quelli. Una volta ogni morte di papa, già quello. Poi ha la bottiglia di plastica dell'acqua e lì ci avete ragione, lì per carità io per prima mi rendo conto che non è una cosa buona comprare le bottiglie di plastica, però quando posso uso l'acqua della caraffa filtrata a casa mia, a casa del mio marito l'acqua, fa schifo, anche filtrata con la caraffa, quindi o non bevo o mi bevo la vita snella. È uguale quando sono qui, se mi devo alzare e prendere un bicchier d'acqua non ci penso e va a finire che non bevo e se non bevo poi mi vengono calcoli, areni, quindi devo bere. Quindi alla fine ognuno, cioè prima di giudicare, ecco quello che voglio dire io è prima di vomitare addosso alle persone o di giudicare, ma che ne sai? Io ho fatto un video così, guardalo, non te sta bene, passi oltre, cioè oltretutto uno short dura al massimo 60 secondi, cioè io faccio così, quando guardo i video, commento se ho da dire qualcosa di carino, di costruttivo, se voglio supportare il canale perché i commenti aiutano il canale a crescere, ma se vedo una cosa che non mi sta bene o che non mi piace o che non condivido, passo oltre, non vengo a romperti le scatole, perché tanto è perfettamente inutile che io ti venga a rompere le scatole. Cioè se faccio una critica è veramente per, è raro, tipo lo fa a una ragazza di un canale straniero che faceva video ASMR, non è che gli ho fatto la critica, gli ho detto guarda io ti adoro, mi piacciono tanto i tuoi video, però interrotti dalla pubblicità è un casino. E lei mi ha detto ah ma dice non lo posso fare, ho detto no guarda non è vero, è cambiata sì certe cose, però se te fai così 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 le pubblicità nel mezzo puoi non metterle. E lei mi ha ringraziato, ha detto e l'ha fatto io adesso mi guardo tutti i suoi video tranquillamente. Invece si tende subito a criticare, come a me ora mi hanno detto eh ma i video ASMR con le pubblicità nel mezzo, sì ma quelli sono sul canale, quello nuovo su cui io ancora non ho la monetizzazione, quindi YouTube su quello fa veramente quello che vuole, fa quello che cavolo gli pare. Quando io arriverò ai criteri per monetizzare il canale toglierò i video nel mezzo ai video, prima non lo posso fare, vabbè ma questa è una parentesi. Ecco vorrei far notare anche come c'è purtroppo nelle persone un senso di insoddisfazione tale, una rabbia tale, che le porta subito a criticare, a dire oppure a dire ah ma questo è uno spuntino, non mangiate niente. Ma come non mangiate niente? Allora io ho 53 anni, il mio marito non ha 62, non siamo due giovincelli di 15 anni che si consuma chissà quante calorie. Quando si è mangiato un vassoino di fave, che hanno tutte le loro sostanze, si è mangiato due fette di pane verna per uno, che vi assicuro che il pane verna è bello sostanzioso, era un pezzo così di formaggio pecorino, oltretutto con caglio vegetale, perché è già da un po' che sto provando a fare delle scelte più consapevoli anche per quanto riguarda latticini e formaggi. E se è finito pure tutto, se sapete bene le dosi del formaggio non sono così tante, ma che mi dia di che non mangio nulla? Poi se te ti vuoi strafogare, vuoi stare tutto il giorno abbioccata sul divano o abbioccato sul divano perché c'è tutto il pasto sullo stomaco, io non ci voglio stare. A me quel pastolino è durato tutto il pomeriggio, sono arrivata alle sette la sera che avevo un pochino d'appetito. Ma perché, ecco quello che dico io, perché dovete criticare? Poi tornando a Monte, a tutto il discorso con cui sono partita, va bene, io da queste critiche sicuramente devo prendere qualcosa, devo imparare qualcosa, servono comunque a mettermi in discussione, servono a darmi anche, a misurarmi un certo livello di pratica, no? Tipo tutte le cose che stai leggendo, studiando, ok, ora mettile in pratica. Quindi, ecco, passato il momento di fumo, poi lo capisco, no? Dico ok. Però, allo stesso modo, le mie risposte, se sono date con garbo, possono anche servire a te che mi critichi. Chissà che non ti serva per capire che forse c'è qualcosa che non va anche nella tua vita, se hai bisogno di venirmi a vomitare addosso sta roba. Poi, alcuni non sono stati neanche sgarbati, però si percepisce, non so se a voi succede, ma a me le energie, le vibrazioni mi arrivano. Anche se a volte uno ti scrive un commento, comunque, che sembra educato, ma la senti la vibrazione sotto che è di rabbia? Poi, ah, con l'acqua? Eh, con l'acqua, ragazzi, il vino non ce l'avevo a casa mia, che poi anche lì dovrei bere meno, perché non mi fa bene. Cioè, io quando, un pochino ok, però, se aumento il limite, lo sento subito che il corpo dice, no, Monica, non va bene, ti fa male. Quindi, il vino ancora non ci abito, non ce l'ho a casa, e ieri sei bevuta l'acqua, sì, un po' tristarello, poi ieri sera ho bevuto la birra, infatti stamani ero stile cadavere. Vabbè, dai, vi ho raccontato un po' di fatti mia, chiaccherine così. Non so, se avete voglia di lasciarmi le vostre opinioni, lo sapete, lo potete fare, sempre con garbo, perché, vi ripeto, per quanto io sia su un cammino di ricerca, l'educazione e la gentilezza non sono un optional. Ciao!